Ok ragazzi, oggi parliamo di proteine, siamo sempre super fomentati quando si parla di proteine perché è qualcosa correlato all'anobulismo puro. Allora, cerchiamo di capire in questo video, cerchiamo di capire in questo video quante proteine assumere nell'arco della giornata, quindi facciamo un punto generale. Ok, prima di dare dei range indicativi su quante proteine assumere, cerchiamo di capire quali sono i pro e i contro dell'input proteico, di un input elevato, questo perché tutti parlano dei pro, sì di tante proteine, eccetera, ma nessuno parla in realtà di quelli che sono in contro, quindi andiamo a emergerci nell'argomento. Iniziamo ovviamente con i pro. Ok, il primo vantaggio è sicuramente quello di una maggiore proteosintesi, ossia un alto input proteico, quindi un'alta assunzione di proteine, massimizza e velocizza tutti i processi di sintesi proteica e quindi indirettamente anche i processi ipertrofici. Questo è vero, però è vero fino a un certo punto, e mi ricordo che gli studi di Tipton, che sono un po' i più importanti e celebri storici, diciamo, in materia, vedevano che c'era sì questo aumento di proteosintesi, però fino ai 2,2 grammi per chilo di peso corporeo, quindi da questo punto di vista inutile andare oltre. Il secondo vantaggio è ovviamente quello del minor catabolismo, e questo è vero soprattutto per periodi di definizione, ossia proprio questo stimolo alla proteosintesi, uno stimolo, se vogliamo, anabolico, riduce i processi catabolici a carico però del tessuto muscolare. Quindi che succede? È vero, in fase di definizione siamo tendenzialmente catabolici e per via di quello che è il deficit energetico comunque perderemo qualcosa, tessuto magro, tessuto grasso, ecco, il fatto di avere tante proteine permette di veicolare in un certo senso questa perdita a discapito del tessuto grasso e di salvaguardare un po' di più il tessuto muscolare. Ovviamente non è che se mangiamo tante proteine possiamo scendere quanto ci pare di calorie, però comunque è un qualcosa in più, quindi un minore catabolismo muscolare. E ultimo punto del tenere un input proteico alto vi ricordate questo 2,2 che vi ho detto 2,2 grammi per chilo di peso corporeo? Ecco, tutti gli studi in realtà sono stati fatti utilizzando delle proteine in polvere, degli aminoacidi essenziali, degli aminoacidi in generale in forma libera, quindi difficilmente ci sono studi che vanno a simulare quella che è la quotidianità. Ecco, proprio per questo tenere un input proteico magari un po' più alto di tutte queste soglie ci permette di avere in un certo senso un margine di sicurezza, pensate che per lo stress, per problematiche da un punto di vista gastrointestinale, per la concomitanza con alcuni cibi, ecco, le proteine potrebbero non essere digerite tutte bene, potrebbero non essere assimilate in toto. Quindi, magari eccedere un po', ecco, non la vedo una bruttissima idea, mettiamo così. Però, per capire questo, dobbiamo anche mettere sull'altro piatto della bilancia quelli che sono i contro, gli svantaggi. Allora, in realtà, di svantaggio principale da un punto di vista di alti input proteici ce n'è uno che è il più importante in assoluto, ossia quello di natura gastrointestinale. Ecco, normalmente, dai, parliamoci chiaro, tutti quanti abbiamo avuto problemi di meteorismo, flatulenza, gonfiore, tutti problemi che, normalmente, subito, ah, mangio quell'alimento, mangio troppi carboidrati, assimilo troppe fibre, e, per carità, in moltissimi casi è questo. Però, nella maggior parte dei casi, in realtà, le responsabili sono proprio le proteine, nel senso che input proteici molto, molto elevati, 200, 250, 300 grammi, quelli, sai che leggete nelle riviste tipo Flex, perché Philit o Sean Roden vanno ad assurdo quest'input proteico, allora, anche voi lo fate, ecco, tendono a creare problematiche da un punto di vista gastrointestinale, perché le proteine tendono a creare un ambiente putrefattivo, e, in realtà, soprattutto le proteine di origine animale. Ecco, da questo punto di vista, ovviamente, potrebbe non essere una buona idea a spingerci oltre. Per cui, cercare di individuare un range che per noi sia ottimale, e andiamo quindi a parlare e capire esattamente qual è questo range di proteine. Allora, per farlo, dobbiamo distinguere un periodo di bulk e il periodo di cattura. Generalmente, in fase di bulk, quello che suggerisco personalmente, che suggeriscono un po' tutti i tecnici, è quello di spaziare in un range che va da 1,5 grammi per chilo di peso corporeo fino a 2,2 grammi per chilo di peso corporeo. È un range ideale, un range in cui, bene o male, c'è una buona risposta ipertrofica e possiamo massimizzare i nostri processi di crescita. Ecco, quello che posso dire è che, man mano che saliamo con l'input energetico, ovviamente, il contesto totale nostro sarà molto più anabolico, soprattutto se saliamo di carboidrati. Quindi, non servirà a spingere troppo per le proteine. E questo è vero, soprattutto nel momento in cui, magari, mangiamo tanti carboidrati, più fibre, già questo ci crea qualche problema. Ma se in più ci mettiamo tante proteine, allora facciamo il padocchio da un punto di vista digestivo e gastrointestinale. Quindi, più siamo alti da un punto di vista dei carboidrati, più le proteine possono scendere fino a più o meno 1,5 grammi per chilo di peso corporeo. E distinguiamo, invece, quello che è il range del cut. Ecco, personalmente, suggerisco di stare proprio tra questi 2,2, ma arrivare anche fino a 2,7, 3 grammi per chilo di peso corporeo. Questo range ci permetterà di, come detto, salvaguardare il tessuto muscolare e dare un forte input da un punto di vista anabolico e quindi veicolare un po' tutti i processi catabolici o la maggior parte a scapito del tessuto adiposo. Quindi, questi sono i range e una cosa importantissima che dovete valutare. Così è il fatto che, nel momento in cui avete questi range di riferimento, ovunque voi siate all'interno del range, state facendo la scelta giusta. Quindi non dovete pensare, ok, ma 1,5, 2,2, aspetta, sto a 500 grammi di carbo, quindi scendo, no, aspetta, sto a 400, salgo. Insomma, non imparanoiatevi perché se state all'interno di questi range va tutto bene, va tutto bene comunque. Quindi state pur tranquilli. Il mio consiglio è semplicemente quello di basarvi sia su tutte le problematiche gastrointestinali, quindi se vedete che avete un po' di problemi e state a 2,2 in fase di bulk, magari abbassate un pochetto le proteine, arrivate fino a 1,5. Come detto, è sempre una scelta giusta e in questo caso molto molto più logica. Viceversa, basatevi anche su quelle che sono le vostre abitudini. Se non vi piace mangiare carne perché non ne siete abituati, non vi piace, non vi piace il pesce, insomma, di natura vostra da un punto di vista organizzativo o quel che vi pare tendete a stare bassi di proteine e mangiarne di più vuol dire consumare tonnellate di integratori e comunque sforzarvi e non viverla bene, allora non ha senso non viverla bene. Cercate di stare magari sempre all'interno di questo range, ma in un range minore e state tranquilli. Viceversa, se non siete abituati a salire troppo di carboidrati e vi piace tanto mangiare carne e tendete a consumare tante proteine, ecco, io per esempio, di mio, se andassi soltanto ad libitum di proteine sarei veramente, veramente alto perché da un punto di vista alimentare, da un punto di vista anche semplicemente di gusto, mi piacciono, quindi mi piace tanto la carne, via discorrendo, ecco, in questo caso io tendo a stare un po' più alto. Se ho problematiche gastrointestinali magari le abbasso per un periodo, però detto questo cerco di basarmi sempre stando in questo range su quelle che sono le mie preferenze individuali. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per questo video. Io come al solito vi invito a seguirci sui nostri canali, quindi YouTube, Facebook, ma soprattutto Instagram dove abbiamo dei canali tutti nuovi per voi che avete visto sicuramente che scorrono qua e detto questo vi rimando al prossimo video. iscriviti al canale